Buongiorno a tutti, siamo Liberty in Queen, un'associazione che si occupa di organizzare eventi privati e digitali per scambisti. Io sono Mia e questa è la nostra sezione di Liberty in Tips. Oggi vi voglio parlare delle ragioni che portano le coppie a provare a intraprendere un percorso di scambismo. Ovviamente sono molteplici e variano da coppia a coppia, ma una cosa è certa e sicura è che accomuna tutte le coppie. Nessuno inizia a fare scambismo perché c'è un problema serio, un disagio all'interno della coppia. Nessuna coppia inizia perché non va più d'accordo, litigano, eccetera. No, le coppie iniziano a fare scambismo perché sono serene, stanno benissimo tra di loro e entrambi i partner sentono l'esigenza di sperimentare qualcosa di nuovo, di trasgredire, di divertirsi. Sottolineo, di comune accordo, l'esigenza deve nascere da entrambi. Magari uno è più convinto, l'altro un po' meno, allora si discute assieme, questo è un altro discorso. Lo scambismo non è il cerotto ai problemi di coppia. Se una coppia ha dei problemi deve risolverli, poi può pensare ad altro. Entrambi nello specifico, poi ovviamente ogni coppia ha le sue ragioni magari più mirate. Ad esempio può essere che la lei è bisessuale o ha interesse per il sesso femminile e vuole sperimentare cose nuove. Oppure viceversa, lui è bisex e quindi si intraprende questo percorso. Ogni coppia può essere, però in linea generica è questo il motivo. Il divertimento, la trasgressione. Non è neanche sbagliato dire che sia una soluzione alla monotonia di coppia, però non è la causa della monotonia, non è un disagio all'interno della relazione. È una monotonia magari dovuta al fatto che siete insieme da tantissimi anni e ragazzi sfendo chiunque, alzate la mano, chi dopo X anni di matrimonio e fidanzamento non ha riscontrato diciamo una sorta di calma piatta nella relazione, specialmente nel lato da punto di vista sessuale. Per oggi è tutto, spero vi sia piaciuto il video. Nel caso vi sia piaciuto mettete per cortesia il like, un commentino non mi dispiacerebbe. Seguite questa pagina, seguitemi anche su Instagram, la mia pagina è mia.libertyinqueen e se avete voglia andate a visitare anche il nostro sito www.libertyinqueen.com Grazie per l'attenzione, un bacione!